no amore bello della mammina ti sei fatto la bua la bua? ma come parla questa? mi sono ferito, ferito mi chi è stato il bau? hai fatto splash? bau, splash, ma che lingua è? ma come parla questa? adesso la tua mamma ti porta a fare un bel giro con la brum brum così ti passa si facciamo che andiamo a vedere bla bla baby così magari capisci come si fa a parlare con i bambini che sembra una rintontita